Un valido aiuto alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere di sicurezza installate in una stazione di servizio poco lontana dal luogo dell'incidente. I filmati, già acquisiti dai carabinieri, serviranno a far luce su quanto accaduto la notte tra sabato e domenica alla periferia di Cerignola, dove sei giovanissimi, tutti tra i 12 e i 13 anni, sono stati travolti da un'auto in corsa guidata da un 25enne. L'impatto è avvenuto in via tiro a segno nei pressi di una sala bullying, dove probabilmente il gruppetto si stava dirigendo prima dell'incidente. Dei sei ragazzi investiti, uno è in gravi condizioni. Nell'impatto con il veicolo ha riportato emorragie diffuse in più parti del corpo. I medici dell'ospedale Casa Sollivo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove è stato trasferito d'urgenza, stanno aspettando che si riassorbano, prima di sottoporlo, ad intervento chirurgico. Ferite, ma in condizioni decisamente migliori, le altre cinque vittime ricoverate tra gli ospedali di Foggia, Cerignola e Barletta. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente, il giovane alla guida dell'auto, che si è subito fermato a prestare aiuto ed è allertato i soccorsi, ha raccontato di non essersi accorto della presenza della comitiva sulla strada. Nella zona, infatti, l'illuminazione pubblica è molto scarsa. Sottoposto ai test di alcol e droga, il 25enne è risultato negativo ad entrambi. Nei suoi confronti non è stato ancora emesso nessun provvedimento cautelare. L'auto, invece, è stata sequestrata. Grazie. Grazie.